Buongiorno a tutti e a tutti i studenti della provincia, un ringraziamento speciale ai rappresentanti della consulta provinciale degli studenti che io ho avuto modo di rappresentare anche per 5 anni, voi probabilmente eravate nella scuola elementare quando io facevo questo mestiere qua, una cosa bella vedervi tutti insieme a parlare di lotta contro le mafie, di anticorruzione e di immunità, ma sentendo le parole nelle pre-interviste di Don Ciotti, la cosa, secondo me oggi le parole d'ordine da prendere in considerazione in questa giornata sono responsabilità e impegno, è un percorso che nasce da lontano con i nostri ragazzi, con i ragazzi della provincia di Cagliari ed è un percorso che deve portare le persone ad impegnarsi nel positivo, non sempre nel dire no, ma è importante che impariamo anche a dire qualche sì, qualche sì per impegnarci di più, con maggiore responsabilità, nella nostra quotidianità, nei nostri doveri quotidiani. I doveri quotidiani per i ragazzi sono principalmente lo studio, l'inferno dello studio e questo è quello che noi chiaramente richiediamo. Ora, anche da parte mia non posso non ringraziare i nostri rappresentanti degli studenti, i tre ragazzi che hanno fortemente voluto questa giornata e non posso che ringraziare i nostri graditissimi ospiti, Don Luigi Ciotti, la giornata sarà organizzata così, i ragazzi faranno delle domande e Don Ciotti in un'interazione proprio attiva con voi, cercherà di interloquire e più che cercare delle risposte, cercare di allargare il campo della riflessione, proprio in nome di queste due parole d'ordine che abbiamo citato in precedenza, responsabilità e impegno.